Buonasera, 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 benvenuti, buonasera a tutti Abbiamo sentito grandi orchestre, ne sentiremo ancora di meglio Noi stasera abbiamo una situazione spregiudicata rispetto alle solite serate da ballo con musica solamente per la maniera d'associazione Siamo un po' più stretti Buonasera Anche lui sta con noi, ragazzi E allora dico, no Allora, voglio fare un saluto e vi chiedo anche a voi di fare un applauso al boss di questo locale Tiberi Graziano Oggi ha avuto un incidente con la macchina Ha avuto un incidente, poi fortunatamente la pelle ce la dura Mi ha detto che l'ha salvato qualcosa che c'era davanti No, ripeto quello che mi ha detto Dove sta Graziano? Eccolo, eccola, di fronte a te Se c'è coraggio di ripeterlo forte Mi ha detto che mi ha salvato quello che c'era davanti Non lo so, immaginate voi Comunque un grande applauso perché io quando l'ho chiamato oggi Lui stavo in ospedale E ho detto ecco qua che abbiamo rovinato la festa Invece sta dito e vegeto C'ha un dito dritto Speriamo che non sia solo questo Graziano, c'ha il dito dritto Un applauso per il dito dritto E' grande E siamo di nuovo dal lupo Ce la facciamo, eh? Sì, sì, ce la facciamo Siamo pronti? Sopra ragazzi Sopra le bambini 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!